ha 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 ha! Vai domanda... vai. Fagli la domanda. Qual è la situazione politica italiana, signor Dipietro? O non le vole Dipietro. E' come... se... dunno... stai gioca' a carto no? Dici prendi tutto il sparo. ...e poi veni a me e dici no... prendi tutto il sparo! E' come funziona qua? E' come funziona? noi io noi dell'Italia dei Valori l'altra sé abbiamo finito il provolone